Ma che bella è l'Argentina! Ma che bella è! Ma andiamo a farci un rellino! Ma guarda che figata! Questo già inizia a parlare, ovviamente mi metto la visuale, ovviamente non parlerò e userò il cambio ad H. Ok, non parlerò, difficoltà 7% e partiamo subito! Via! 30, 4 sinistra, apre, 50, tieni la destra sul possibile salto in 6 sinistra, 30, 4 sinistra in non visto, 1 destra, apre, tieni la destra su 80, non visto, 4 sinistra, 30, 5 sinistra, 60 su dossi, attenzione, 1 sinistra non visto. Intornante non visto, a destra, stretto. In 5 sinistra, 30, 4 destra, in 3 sinistra, in 2 destra, stringe. 30, taglia, 3 sinistra, lunga, stringe, intornante a sinistra, non visto. Tieni la sinistra su 30, attenzione, non tagliare, 4 destra, 4 sinistra, in non visto, 1 destra, taglia poco. 4 sinistra, 4 sinistra, tieni la destra su 30, attenzione, non visto, tornante a sinistra. In non visto, tornante a sinistra, apre. In 4 destra, in non visto, tornante aperto, a sinistra, apre. In tornante aperto, a destra, apre. In 3 destra, su crinale, in 4 sinistra, in 1 destra, stringe. Tieni la destra su 30. 3 sinistra, lunga, stringe 2. Apre su crinale, in 5 sinistra, in 4 destra, in 4 sinistra, lunga, condossi, 30. Rallenta, 2 destra, lunga, stringe, intornante aperto, a sinistra. In 4 destra, su dosso, in attenzione, 5 sinistra, 30, su brutti, dossi, non visto, tornante a destra. 30, 6 destra, 50. Attenzione, tieni la destra, non tagliare, 5 sinistra, 30. Crinale, e 1 sinistra, lunga, stringe, tornante a sinistra. In 5 destra, in non tagliare, 5 sinistra, in 1 destra. 30, tieni la sinistra su crinale, e dosso, in 1 destra, stringe. 50, su dossi, 2 sinistra, stringe. 30, 3 sinistra, 30. Non visto, 2 destra. Tieni la destra, su 50, 1 sinistra, stringe. 30, 5 destra, lunga, apre, 80. Dossi, e salto in 6 sinistra. Comunque al 100% è troppo difficile. 3, 6 destra, molto lunga, su crinale, stringe. Tornante a destra, non tagliare. 50, crinale. 3 sinistra, taglia poco, in 4 destra. 50, 4 sinistra, lunga, stringe, 30. Tieni la destra sull'incrocio, in 4 sinistra, e non tagliare, 3 sinistra, in 1 destra. In 6 sinistra, 50. 6 destra, 30. 3 sinistra, molto lunga, apre, stringe 1. 50, 5 destra, in 4 sinistra. In 4 destra, lunga, apre, 30. Attenzione, 2 sinistra, stretto. 60, dossi, in 4 destra, 30. 1 destra, lunga, apre, in 4 destra, lunga. In 3 sinistra, non tagliare. E tieni la destra, 30, apre, tornante a sinistra. 50. Rallenta, 4 destra, su crinale, lunga, stringe 2, in 2 sinistra. Apre, 30, 6 sinistra, su crinale, 50. Non visto, 2 destra, in 3 sinistra, non tagliare. In non visto, 2 destra, taglia poco. In 2 sinistra, lunga, stringe. In 2 destra, lunga, apre, stringe, tornante a destra, stringe. In 1 destra, stringe, apre, lunga. In 1 destra, non tagliare. In 2 sinistra, lunga, stringe, apre. In 2 sinistra, lunga, stringe 1. In 1 destra, lunga, stringe, tornante a destra. 30. In 1 sinistra, lunga. In 6 sinistra, tornante a destra, improvviso. Apre, 4 destra, lunga, su crinale. Dosso, attenzione, 30, 1 destra. Intornante a sinistra, in 6 destra. Tieni la sinistra, su 50, 4 destra, stretto, 30. 3 sinistra, su dosso, in 2 destra, 20. 1 destra, lunga, stringe, in 5 sinistra. Ma porca di quella miseria. Ma guarda tu se mi dovevo scontrare leggermente con quella pietra. 4 destra, lunga, su crinale, intornante a sinistra. 4 destra, lunga, su crinale. In 2 sinistra, lunga, su crinale, su arrivo. 30. Ma dai, alla fine no. Mi ero distratto un attimo, ho bucato anche la gomma. Ma ormai... Non ti preoccupare, ormai arriviamo con la foratura. Ma porca di quella miseria. La macchina comunque sotto sterzava tantissimo. Non gira neanche a pagarla, sta macchina che ha la trazione anteriore. Porca di quella miseria. Forse, forse poteva arrivare il 19esimo, 18esimo. Però ci sta. Ci sta così, ci sta, ragazzi. Per me è piaciuto. Mi è sembrata buona, ma controlliamo i risultati. Ma insomma, non buonissima. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un po' di giù in su, di iscrivervi al canale, se non siete iscritti, di condividere il video se potete. Purtroppo con Stagolf non riuscivo proprio ad andare. Un minuto dal primo. Non è tantissimo un minuto dal primo, eh. Non è tantissimo un minuto dal primo. Io non la butterei via. Ovviamente giocavo al 100%. Vediamo se ci si vede da qualche parte. No, non si vede da nessuna parte. Spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo nelle prossime puntate. Ciao!